A Monteroni di Lecce, nei pressi di via Roma, non molto lontano dal municipio, sono state incendiate intenzionalmente sette auto poste in un'area di sosta pubblica, tutte di proprietà di un imprenditore 39enne incensurato, titolare di un'attività di un autonoleggio. Nell'incendio è stata coinvolta anche un'altra auto, una Lancia Delta, di proprietà di Tersi. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre di vigili del fuoco, che hanno prontamente spento l'incendio. Purtroppo le telecamere di videosorveglianza non erano attive e non hanno potuto rivelare l'identità dei responsabili della vicenda. Si presume però che altre telecamere di attività commerciali abbiano ripreso l'accaduto. I carabinieri stanno attualmente indagando sulla vicenda e si attendono ulteriori novità.